Giornata ricca di soddisfazioni per i gruppi under 12 femminile e under 14 maschile dell'Atletica Agropoli. I ragazzi, impegnati nelle prove multiple regionali di Napoli, tornano a casa rispettivamente con una medaglia d'argento e d'oro. A trascinare la squadra maschile al primo posto sono stati Luca Palmieri e Carmine Del Negro. Il primo ha migliorato il record societario di Giuseppe Filpi sul lungo, portandolo dopo 5 anni a 5,10 metri. Gli altri componenti della squadra maschile erano Luca Malandrino, Marco Carpinelli, Andrea De Marco e Marco Tafuri. La squadra under 12 femminile, seconda classificata, è invece composta da Lisia Nastari, Sabrina Spinelli, Marta Quaglia, Silvia Filpi, Erika Quaglia e Barbara Di Stefano. A guidare la squadra femminile è stata la brava Lisia che ha ottenuto un bel risultato, soprattutto nel Vortex con 26 metri. I tecnici dei ragazzi che hanno preso parte alle gare sono Francesco Pandolfo, Angela Gargano e Maria Grazia Biscardi. Il commento finale del responsabile del settore giovanile Angela Gargano. Parlare di progetti e programmazione delle volte può risultare retorico, ma i risultati testimoniano in pieno proprio questa parte cruciale del nostro lavoro. Abbiamo davvero dei gruppi fantastici e questi ragazzi, nonostante la giovanità, si comportano davvero in modo esemplare. Ne siamo davvero orgogliosi.